Ricordate l'autovelox di Via di Sotto? 20.000 contravvenzioni elevate in appena sei mesi ai veicoli che all'epoca non rispettarono il limite di 30 km. In 300 si sono rivolti al giudice di pace e hanno vinto la causa. Dieci mesi fa l'impianto è stato smantellato, ma lo scontro si riaccende, già perché l'amministrazione comunale ha impugnato in tribunale già 50 sentenze. Il capogruppo del PD, Piero Giampietro. Questa è una cosa che sta di paradosso se vogliamo. È un paradosso ma anche molto peggio, forse anche proprio accadimento contro le persone perché la Giunta ha messo questo autovelox e poi lo ha tolto dopo appena tre mesi nei fatti di operatività perché probabilmente qualcosa non andava. Perché altrimenti avrebbe confermato questo impianto. Se l'ha tolto vuol dire che ha capito che non andava messo lì. Fare il ricorso contro le persone che hanno scelto di andare dal giudice di pace vuol dire davvero costringere a pagare anche gli avvocati, costringere poi in caso di soccombenza, che è una causa, anche a pagare le spese legali. Tra l'altro c'è anche un'altra domanda che va fatta. Queste tante risorse incassate, come sono state spese, visto che la legge impone, ma anche buon senso, imporrebbe che venissero spese nel quartiere per la sicurezza stradale, perché è un tema quello della sicurezza stradale. Abbiamo l'impressione che sono state spese per fare gli asfalti non soltanto in quel quartiere, quindi davvero è tutto molto paradossale. Avete chiesto l'UMI all'amministrazione, o meglio al Sindaco? Loro ci rispondono che è un problema di educazione nei confronti delle persone. Io credo invece che il Comune debba fare il buono parte di famiglia. Parliamo di un messaggio che è stato lanciato, 20.000 persone lo hanno pagato, davvero fare ricorso contro i cittadini è davvero una cosa che l'amministrazione poteva tranquillamente risparmiarsi. In Via di Sotto ci sono altri nodi irrisolti? Via di Sotto è una strada molto popolata, sempre più popolata, dove oggi chiunque passa con uno scooter o una bicicletta rischia di farsi male, perché come in tutta la città purtroppo le buche sono devastanti. Credo che sia necessario davvero mettere mano, non soltanto a Via di Sotto, ma a molti problemi che hanno le periferie di Pescara. Quella di Pescara Colli è una delle più popolate, davvero questo accanimento da Marchese del Grillo sinceramente non ci piace.